Passa dalla Commissione all'Aula il bilancio regionale, l'opposizione favorevole per garantire il rinnovo della proroga ai precari. Slitta al prossimo 24 gennaio il pagamento della taressa ad Alcamo, intanto domattina al Palatrasanti la giunta a Bonventre incontrerà i cittadini per un confronto sugli aumenti. Raggiunto l'accordo tra i sindacati e i vertici della RAP, grazie a dei sacrifici comuni, sono stati trovati soldi per garantire il servizio di raccolta a Palermo per tutto il 2014. Protocollo Fantasma è l'ultimo libro del giornalista partenicese Walter Molino, il volume che parla della trattativa Stato-Mafia è stato presentato ieri sera a Partinico al Caffè Letterario. Leggere è. Buonasera, bentrovati a Studio TV7, oggi è il 28 di dicembre, siamo in prossimità di Capodanno e questo sabato, l'ultimo sabato dell'anno. Iniziamo a parlare del bilancio della Regione che è stato esitato dalla Commissione di Merito, adesso può passare in aula. La celerità con la quale è stato passato e transitato dalla Commissione stessa, probabilmente, anzi, certamente dovuta ai precari che senza il bilancio approvato avrebbero rischiato la proroga, un rischio che naturalmente nessuno voleva correre. L'approvazione del bilancio che può passare adesso all'Arse è un primo passo di un tour de force che non deve accusare né errori né rallentamenti. Le opposizioni che non hanno ostacolato l'approvazione per garantire il lavoro a migliaia di precari promettono invece battaglia sulla legge di stabilità. Approvare il bilancio della Regione entro fine anno evita l'esercizio provvisorio che sarebbe stato deleterio ed anche dannoso per i contrattisti degli enti locali che aspettano la proroga. Il senso di responsabilità del Governo sta consentendo al Parlamento regionale di operare nei termini previsti per iniziare l'anno con il bilancio già operativo. Adesso si penserà alla finanziaria, alla quale si lavora già da oggi in commissione bilancio. L'Aula invece discuterà delle proroghe ai commissari della provincia. Per l'approvazione ad Ercole dei documenti contabili invece bisognerà attendere il 30 o addirittura il 31. Da lì si fisserà il tempo utile per il deposito degli emendamenti. Poi si potrebbero votare i testi. Le date più probabili sono quelle di sabato 4 e domenica 5 gennaio. Nessun esercizio provvisorio, quindi anno nuovo, bilancio nuovo nel segno dei 20.000 precari siciliani. Ancora due mesi di vita per le province. La proroga dei commissari durerà fino a fine febbraio. La Commissione Affari Istituzionali ha bocciato la proposta del Governo regionale che voleva fissare la scadenza della proroga per le province a fine giugno per avere più tempo e far nascere i consorsi di comuni e le città metropolitane. Ed ha deciso che il commissariamento durerà solo per altri due mesi. A fine febbraio le province scompariranno. L'ufficialità sarà data comunque quando il Parlamento voterà il pacchetto sulla finanziaria all'interno della quale è contenuto il capitolo province, possibilmente entro oggi. Se la votazione sarà favorevole, da metà gennaio il Governo regionale dovrà accelerare sulle due leggi relative ai consorsi di comuni e aree metropolitane. Ancora da definire il loro numero, dato che la Regione vorrebbe aggiungere l'asse Caltanessetta e Enna, oltre a Palermo, Catania e Messina. L'asse sarà chiamata ad esprimersi su altre questioni, come la legge che permetterà l'apertura di un casino a Palermo e a Tormina, per cui comunque è necessaria la ratifica del Governo nazionale, quella che permetterà di richiedere un prestito da un miliardo per pagare i debiti di regione e comune verso le ditte fornitrici e appaltatrici. E intanto sulla decisione della proroga del commissariamento della provincia è intervenuto con una nota l'onorevole Totò Cordaro, presidente del gruppo PID, Cantiere Popolare Grande Sud all'Arse. Il gruppo che ho l'onore di rappresentare, ha detto Cordaro, si esprime a favore del ritorno a libere elezioni, si oppone alla ipotesi di un prolungamento della antidemocratica gestione commissariale di enti che hanno svolto un'azione utile per il territorio, fermo restando che se la riforma nazionale delle province può sempre rappresentare un modello su cui ispirarsi. Una notizia di cronaca, i carabinieri della stazione di Santa Flavia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Massimiliano Sparacino, 38 anni, di Partinico, ma residente a Santa Flavia, trovato in possesso di 47 grammi di ascice in un unico blocco e un coltello, naturalmente posti entrambi sotto sequestro. L'uomo è stato portato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo del Tribunale di Termini Merese, al termine del quale l'arresto è stato convalidato. Sparacino ha chiesto di patteggiare la pena. Spostiamoci ad Alcamo dove l'amministrazione ha deciso di prorogare il primo termine per il pagamento e la Tares è giunta nelle case dei cittadini con alcuni giorni di ritardo rispetto al primo termine che era stato fissato per il 16 settembre. La scadenza della prima errata della Tares ad Alcamo slitterà al prossimo 24 gennaio. Le bollette sono state notificate per responsabilità solo del Comune dopo il 16 dicembre scorso, scadenza della errata in questione. Allo studio vi è anche la possibilità di venire ulteriormente incontro ai disoccupati e quanti hanno un reddito ISEE che non supera i 6.000 euro. Queste le decisioni al vaglio della Giunta Comunale guidata dal sindaco Bonmentre. Il rinvio della scadenza al 24 gennaio è comunque certo. Intanto si chiede una commissione d'inchiesta per accertare chi ha sbagliato all'ufficio finanze nel predisporre le bollette che, come ha ammesso lo stesso assessore alle finanze Gianluca Binanti, sono tutte errate, quelle che riguardano i garage con superficie superiori a 20 metri quadri e bisogna lavorare nella direzione della riduzione dei costi del servizio che ammonta 7.900.000 euro. Errori vi sono anche nei modelli F24, tutti a favore della Cassa Comunale e in tante altre cartelle pazze, tanto che viene sollecitato l'azzeramento del personale di questo settore. I danni provocati all'amministrazione dalle bollette pazze sono evidenti nonostante le tariffe siano le più basse della Sicilia. Contestazioni, proteste e convocazioni di assemblee, una delle quali si svolgerà domani mattina alle 9.30 nella palestra Tressanti per un non faccia a faccia tra sindaco e assessori e componenti del comitato sorto per contestare le tariffe TARES. Nel dare appoggio all'amministrazione comunale, scrive il PD in una nota, per avere garantito un eccellente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, mantenendo la tariffa tra le più basse della Sicilia, in merito ai disagi manifestati dai cittadini sulla TARES, sollecitiamo la giunta di concerto con gli uffici ad adottare le soluzioni tecniche del caso per porre rimedio alla numerosa richiesta di pagamento verosivilmente errate pervenute a numerosi cittadini e imprese con importi elevati e anomali. Sulla grammole di errori o sviste degli uffici si ritiene opportuno che l'amministrazione ne verifichi le cause relazionando in Consiglio Comunale. Per il Movimento 5 Stelle, se le isole ecologiche fossero funzionanti, la città potrebbe ottenere notevoli risparmi sulle somme impiegate per la raccolta dei rifiuti. Conseguentemente l'importo dei contribuenti sono tenuti a pagare ogni anno e che scatenano una legittima protesta popolare sarebbe inferiore. Le isole ecologiche vennero inaugurate circa quattro anni fa e non hanno quasi mai funzionato. Ad Alcamo le utenze domestiche per la TARES sono 27.766, non domestiche sono 2.659. E in tema di rifiuti è stato raggiunto l'accordo tra i sindacati e i vertici della RAP, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta a Palermo. Nel 2014 la città dovrebbe essere finalmente più pulita. Sindacati e i vertici della RAP, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta rifiuti a Palermo, hanno trovato un accordo. Sono stati trovati soldi per riequilibrare il bilancio e quindi per garantire il servizio di raccolta per il 2014. Un lungo lavoro di limatura, una manovra fatta con un risparmio sul lavoro di 6 milioni. Soldi che verranno tolti dalla busta paga dei lavoratori. È stato congelato il rinnovo contrattuale del 2014 e anche i domenicali. Saranno attuati diversi prepensionamenti per un risparmio di 750 mila euro. 175 lavoratori che si occupano della pulizia delle caditoie passeranno di nuovo ad AMAP, cambio che comporterà un risparmio da 3 milioni di euro. Infine il Comune ha aumentato di 5 milioni i servizi di derattizzazione e disinvestazione. Secondo il Sindaco, è stata una scelta che evidenzia una grande assunzione di responsabilità di tutti per il bene della città. L'amministrazione ha fatto tutto quanto possibile per ridurre il carico economico sui lavoratori e le soluzioni individuate nell'accordo permetteranno adesso di favorire il raggiungimento di obiettivi di qualità dei servizi. Il Presidente della RAP, Sergio Marino, ha apprezzato che i lavoratori hanno espresso un grande senso di irresponsabilità ed ha sottolineato che il dialogo ed il confronto consentirà di poter monitorare periodicamente lo stato di salute della RAP e verificare se gli elementi che sono stati messi in discussione per raggiungere il pregio di bilancio sono stati efficaci ed efficienti. Adesso però bisogna ripulire Palermo. Approvato ad Alcam il progetto per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza Occhio elettronico per la sicurezza. Una delibera del 2012 aveva approvato il progetto preliminare. Adesso è stato ammesso a finanziamento Ponne Sicurezza e potrà essere finalmente realizzato. Sarà finanziato per un totale di 350 mila euro e la Giunta ha approvato il progetto definitivo e il dirigente del settore ha dato immediata disponibilità a procedere con l'attivazione del servizio. E' sempre ad Alcamo l'ASD Alcamo a due anni dalla sua morte domenica allo stadio Lerio Catella ricorderà uno dei più grandi e stimati presidenti della storia del calcio. Alcamesa Giuseppe Lauria deceduto il 2 gennaio del 2012 con il primo Memorial e presidentissimo Giuseppe Lauria. Assunta la carica di presidente nel 1973 fallì una Serie D nel 74 perdendo lo spareggio contro il Terranova sul neutro di Barcellona ma ben presto riuscì a riprendersi le sue rivincite vincendo due campionati consecutivi e arrivando a conquistare la mitica Serie C. Al triangolare che avrà inizio alle 15.30 parteciperanno oltre all'Alcamo, il Castellammare e il Salemi saranno presenti alcune vecchie glorie che indossarono la maglia bianconera in quegli anni e le autorità locali con in testa il sindaco, l'assessore allo sport e il presidente del Consiglio. E' chiaro che il riferimento al presidente Lauria è il riferimento davvero ad un calcio che non c'è più un calcio che era seguito con tanta passione adesso purtroppo questo sport è meraviglioso e un'altra cosa. All'Alcamo per una notizia di grande civiltà perché anche per il prossimo anno i cani randaggi alcamesi saranno ospitati a Crotone al canile Mr. Dog. Anche quest'anno i cani randaggi di Alcamo andranno in provincia di Crotone al canile Mr. Dog che già dal 2006 ospita i cani provenienti dall'Alcamo. La gara d'appalto è stata espletata il 17 dicembre scorso. La spesa per il comune si aggirerà intorno ai 200.000 euro perché il costo di ogni cane sarà di 1,49 euro al giorno. In media ogni anno ci sono stati dai 300 ai 350 cani. Alla gara erano stati invitati a partecipare anche i canili più vicini a quello di Crotone. Gli altri quattro infatti si trovano tutti in Sicilia ma l'unica offerta pervenuta è stata proprio e unicamente quella di Mr. Dog che pertanto si è giudicata l'appalto come è accaduto negli anni precedenti. Da anni ad Alcamo si parla di un canile comunale che dovrebbe sorgere sul terreno confiscato dalla mafia. Un protocollo d'intesa che risale al 2008 firmato da sindace e presidente che lo renderebbe rifugio del comprensorio sanitario che racchiude Alcamo, Castellammare e Calata Fimi se gesta. Esiste anche un progetto già pronto che lo vorrebbe incontrare da tre noci ma queste ultime sono tutte ipotesi che si susseguono per l'ennesimo anno consecutivo. La certezza è che la gara d'appalto vinta da Mr. Dog è la sicurezza che per quest'anno i cani andranno al canile di Crotone. Adesso parliamo di cultura. Walter Molino, giornalista partinicese che da anni lavora nella redazione di Michele Santoro, ieri ha presentato il suo secondo libro. Dopo taci infame, dedicato alla vita e alle esperienze dei cronisti del Sud, ha scritto protocollo fantasma, libro inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Dossier silenzi e segreti di Stato, strategia dell'attenzione al tempo delle larghe intese. E' il sottotitolo che dà la traccia degli argomenti trattati nel libro protocollo fantasma di Walter Molino. Il giornalista siciliano, da anni impegnato nella redazione di Michele Santoro, ha presentato il suo libro inchiesta a Partinico, paese dove è nato e dove vive la sua famiglia. Il libro di Molino è una specie di romanzo, ma non di sola fantasia. Le vicende sono state rielaborate dall'autore, ma senza tradire la realtà. Il libro prende spunto da un dossier di 12 pagine che è stato recapitato nel settembre del 2012 a casa del pubblico ministero palermitano Nino Di Matteo. Sì, un dossier che si chiamava protocollo fantasma, un nome in codice utilizzato dai servizi segreti e quindi un nome scelto non a caso. Un dossier recapitato nel settembre del 2012 da cui comincia un periodo lungo di pressioni e intimidazioni nei confronti non solo di Di Matteo, ma anche dei magistrati del pull antimafia di Palermo, della direzione distrettuale antimafia e che ha avuto come ultimi episodi le minacce, i propositi stragisti che Totorrina ha manifestato al carcere di opera. Il giornalista siciliano che è iniziato, tra l'altro nel territorio più contaminato da quei fenomeni delle stragi, è iniziato in quel periodo. Tu dai per scontato che la trattativa c'è stata? C'è ancora qualcuno che lo mette in dubbio? Non lo do per scontato io, lo dicono i magistrati con sentenze definitive. I processi di Firenze sulla strage di Firenze del Dio di Gergofi del 1993 dice con sentenza passata in giudicato che ci fu una trattativa tra pezzi dello Stato e pezzi di Cosa Nostra con un'iniziativa presa da pezzi dello Stato. Quindi la trattativa c'è stata, l'hanno voluta le istituzioni della Repubblica e questo è il punto di partenza e il processo che si sta svolgendo a Palermo sta cercando di capire chi sono stati responsabili e quali tipi di reato sono stati commessi. Leggendo il tuo libro ci si pone una domanda. È probabile che questa trattativa Stata mafia non avrà una fine a questo processo sino a quando saranno in vita grossi pezzi della Repubblica italiana? Il punto è che questo processo e l'inchiesta che continua da fastidio a tanti uomini delle istituzioni agli apparati delle istituzioni e continua a dar fastidio ancora adesso è un'inchiesta che continua a far paura ancora adesso. Il punto è che non è che si stanno processando uomini politici, mafiosi, ufficiali dei Carabinieri soltanto per quello che è accaduto vent'anni fa ma tutto quello che è accaduto vent'anni fa ha una prosecuzione dà i suoi effetti ancora adesso e non è un caso che i vertici più alti della Repubblica come il Curinale stiano facendogli tutto per mettere i bastoni tra le ruote a questa inchiesta. Perché a tuo giudizio il nostro Presidente della Repubblica viene urtato nella sua suscettibilità quando gli si chiede di collaborare, di partecipare? Come vent'anni fa in questo momento le istituzioni repubblicane, lo Stato italiano è in una grave crisi, i partiti hanno una crisi di credibilità enorme il Curinale alla Presidenza della Repubblica è l'unica, l'ultima istituzione che è rimasta solida agli occhi degli italiani evidentemente per il Presidente della Repubblica rispondere ai magistrati che indagano su un crimine così efferato come quello delle stragi di mafia può rischiare di mettere in dubbio la credibilità delle istituzioni io credo che sia solo questo il motivo per cui Giorgio Napolitano faccia tutte queste resistenze lui certamente non ha avuto nessuna parte nella trattativa non ha avuto ovviamente nessuna strage e i magistrati non lo vogliono interrogare per accertare sue responsabilità ma per capire se lui forse sa qualche cosa che qualcuno potrebbe avergli riferito a 16 anni dalla scomparsa Danilo Dolci verrà ricordato lunedì 30 alle 10.30 la figura del sociologo triestino sarà celebrato quest'anno davanti a Largo Scalia il palazzo dove il 25 marzo del 1970 il sociologo sfidando il divieto del tempo diede vita in clandestinità a Radio Libera considerata la prima radio privata in Italia da quell'emittente improvvisata lanciò un forte messaggio di denuncia contro l'abbandono delle popolazioni della Valle del Bellice colpite dal terremoto nel 1968 l'emittente rimase in onda solo 27 ore prima che la polizia e i carabinieri facessero eruzione nella sede del centro studio iniziativa mettendo i sigilli agli impianti denunciando i responsabili per violazione della legge sulle comunicazioni che in quel periodo consentiva solo alla RAI l'utilizzo del lettere domani, domenica 29 dicembre, alle ore 18 si svolgerà a Borgetto il concerto di Natale 2013 proposto dall'associazione bandistica Catanzaro Borgetto che si terrà presso il monastero dei padri passionisti l'associazione bandistica diretta da Vito Salamone offrirà al pubblico un repertorio rinnovato e variegato dai festanti brani natalizi ai fiabbeschi toni del Walzer di Strauss alle emozionanti note della colonna sonora di The Mission di Ennio Morricone alla suggestiva sinfonia della Forza del Destino di Giuseppe Verdi a fare da sfondo allo spettacolo sarà una melodiosa e armonica nota quella della beneficenza il ricavato della serata musicale sarà destinato alle famiglie indigenti della comunità l'evento è patrocinato dall'assessorato la cultura del comune di Borgetto non ci sono altri aggiornamenti ma prima di chiudere vi ricordo gli appuntamenti per il campionato di Serie B che come sapete noi eseguiamo sia in casa che in trasferta quelli del Palermo e quelli del Trapani e ci sono due trasferte per le squadre siciliane il Palermo va a Crotone è una trasferta molto difficile un Crotone arrabbiato e ferito perché ha perso una partita contro il Trapani una partita molto combattuta e quindi il Palermo privo del solo Milanovic che ha subito tre giornate di squalifica va a affrontare questa trasferta molto delicata dopo la prova scoraggiante dal punto di vista del gioco ma confortante per la classifica di giovedì scorso Crotone Palermo sarà arbitrata dall'arbitro di Bello di Brindisi il Trapani invece in serie positiva da sette turni va a far visita alle breccia dell'imperatore Caracciolo che va sempre in golle in maniera tra l'altro molto bella altra trasferta difficile per il Trapani a cui basterebbe naturalmente il pareggio ma la squadra di Boscaglia ci ha insegnato che va in campo sempre per vincere questo nel suo spirito e Brescia Trapani sarà diretta da Minnelli di Varese è chiaro che poi noi lunedì vi forniremo servizi, immagini e interviste delle due partite con questo è davvero tutto io vi auguro una serena e felice domenica vi ricordo l'ultima dell'anno la normale programmazione riprenderà lunedì ai soliti orari buona domenica insieme a l'acqua il Grazie a tutti.